guarda che ho l'aiuto ci sono lecce patriazzate qui come farei il tarfallo? Ho visto anche io 1600! Guarda, 1700! Però avete visto? In Nando già questo è un passo 2400 Guarda Siamo dentro 2800 Guarda Secondo me no, ora dici errori 3000 E ho passato Lo è vero Io Io 3000 Eh Luca, Luca È vero lui Ehi Quanti Sì Io Se mai avessi tiri dovremmo cap... Cioè, beh, mettiamci le Andiamo le tutte qua Ehm No, 240 di quelle Cosa è sta roba? Sessanta Sessanta, sessantanove O andiamo a 2-2 però Eh, andiamo a dimmi le case, perché non possiamo andare uno da soli, uno da soli C'è gente Luca, io vado a cercare da qua Ammazzato uno, ammazzato uno Io resto qua sopra Io resto sopra la fabbrica, mi copro da qua L'ho fatto scappare, si è buttato proprio la cassa Non ha vita eh Non ci credo Ah ma ho letto Ce la fai Opposite? Ce la fai o no? C'è uno qui, è morto, morto Lo so Luca, ce l'ho colpito due volte È morto, morto C'è gente qua dove sono io Io non sono entrato neanche qua, non ho letto solo loro Eh, me le ho toccato 95 Le è rimaste 5 di vita Ci sono le vende qua Opposite, nel pieno Cattolo, dove? C'è gente qua da me Allora, c'è gente qua da me Io sono nascosto, poi c'è gente Allora, attenti Vabbè Arrivo, arrivo Interrato Spara, spara, spara Qua dentro ancora ce n'è, ma non è entrato Non lo so, non ho rischiato Io non scendo da qua ho paura Dai C'è gente qua per te Che non sei utile Non è esploso, non è neanche esploso l'ultimo Ah si? Eh si, è quello con i capelli che avevo usato lì Vabbè, che non combatti, ragazzi Io ho una jambe, lì, ti ripa la jambe d'osso Che riesci a metterla più così Mhm Ottimo Dai, dai, dai Io ho un caricatore di pompa per pompa e basta C'ho due pompa, poi caricatore e poi basta Ho ne ho tre colpi Ho tre colpi di pompa e ne avete qua? Eh, ne ho Eh, ne ho Eh, allora Ne puoi scurare su un god test Non ho neanche materiali C'ho vetti di lei Eh? Eccomi La mia La mia La mia La mia La mia Non mi piace Ok, compito Non Ah boh, cominciamo a vedere un po' i nomi però non l'ho visto troppo ancora mi sa che si creano più servo diciamo che qua ti fiu italiano non siamo più ma sei a vabbè te li fai abbastanza non lo so non lo so tengo io si si ci mettono a camperare ti finiscono subito a te ti ho altri colpi di pompa io ne ho 8 e 8 io ne ho 3 li ce ne ho trovati io ne ho 20 non dite niente adesso 14-14 miliardi scudone o scurti scudini scudini ragazzi il pallone è stato dotato beviamo tutto altri scudini no no non volete portare questo io ho il posto delle pende ciao faccio scudini faccio scudini eh scudini prendi qua scudini prendi qua scudini prendi qua sto tenendo sia scudini che bevini anche a saldo ho lasciato metalletta viola ho lasciato cosa è la metalletta viola scudini scudini ne prendo io uno oh ci sente qua davanti ci sente qua davanti all'apparigionamento all'apparigionamento hai lasciato lo scudini vabbè vabbè partiamo partiamo è quello scudini quello lì era una vita lì 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 oh non diventa di colpi a quello una qua sotto opposite sotto di noi eh scusate no 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 io sono qua troppo a noi siamo la che è no poi guarda che questa è qua chi è? Luca guarda che ci abbiamo uno qua si 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 è qua ah lui ooooo stai qua voglio capire chi si spara ma dove sei? ma dove sei? guarda che ci spara i datemi gli scudi per spara si 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 ti do via due il sotto della caverna ti do le pende ti do le pende bella 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 chi è questi? df qua c'è uno sky qua c'è uno sky sky e scudini sky e scudini ne bevo uno in caso se non l'avete già ah forse qua bene qua bene qua bene qua bene qua bene zik zik nin 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 da me da nin chi è? chi è già in caso? io 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 c'è una squadra enorme c'è una squadra complessa che ha le case le case allora ho pure una bozza grande per qualcuno che lo vuole io io come non lo so ma vabbè tieni i scudini tieni i scudini opposite vediamolo qua vai diamo un altro per te ok io ho finito posto questo anche era lì davanti ma abbiamo avanzati 4 di questi o no? sopra il civile capissimo l'abbiamo visto credo perché ha fatto le scale ah lì 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 i ragazzi dove c'è qui davanti abbiamo visto si si di che cosa è stato è stato due prodi sono due no tre tre sono ce n'è un'altra a destra pure ma chi è del ciò si un lato scappando non ha vita non ha vita questa una ancora qua una ancora qua una ancora qua ok è attaccato l'ho buttato giù ah non ha scudo non ha scudo non ha scudo si si perché non ti guardano ma non siamo con Ciccio ma siamo con Ciccio ma siamo con Ciccio ma siamo con Ciccio KTM i Gn sono tutti team comunque tutti team io prendo una cassa qua un attimo eh no no ragazzi se lo vende io se lo vende dai un po' di vista se lo vende si si in tre mi stanno guardando in tre allora tenete miniscuri qua miniscuri qua miniscuri qua tre miniscuri no materiali ne ho tanti ho full legna e full pieta se volete ok adesso siamo in cinque vedi ma in cinque mi guardano ma in tre stiamo guardando tipo italiano ahahah questo è lì questo è lì guarda c'è stato guarda oh prigionamento qua non andate non andate magari ti avevo un altro lanciarazzi se lo vende oh venite oh c'è l'aprigionamento aspettate c'è uno qui dai il tappo è molto uno lo è stato quello che è scelto sotto ah ci sono tutti cazzo c'è un apprigionamento mai ti vanno lanciarazzi ma è meglio lanciarazzi ma è meglio lanciarazzi dobbiamo ruotare non riusciare 64 a 1 ho fatto 64 a 1 un attaccato un attaccato lì della pietra lì della pietra lì della pietra sotto sotto Luca c'è un po' qui uno è qua sotto che corre un attaccato un attaccato un attaccato un attaccato ti non c'è un attaccato un attaccato un attaccato una città una città un attaccato che è una città un attaccato un attaccato vai fanno 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 anche lì ha finito anche lì ha finito anche lì ha finito no luca ogni volta non è possibile eh non mettere una cosa a terra con bollissimo livello ce la facciamo ah ce la facciamo no è fuori eh ma tu ci vuoi sempre di tempesta avevo 30 di vita eh appunto ma è in tempesta comunque abbiamo uno sotto di nuovo qua eh eh ma devi trovare la tempesta non può essere ogni volta era bianco non aveva studio si muove di nuovo la tempesta io jump in caso oh è lì ammazzato giambi era effettivo quello è quello che facciamo così ah si siamo tutti ma opposito ha apposito il gasciato nooo si ma dai siamo rimasti in due cioè io sono ammazzato io vedi cosa dice nel gruppo come cosa si è non se si 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 oh dobbiamo buttare giù tutto, hai colpito assalto zic butta giù tutto, butta giù tutto, butta giù tutto, butta giù tutto, ora sei? si, 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 si chi è rimasto, chi è rimasto? qua, 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 qua ma dov'è? ma dov'è? io non salire fino lassù tanto poi, oh oh, uno è sotto io non ho lanciarazzi io non ho lanciarazzi io non ho lanciarazzi oh si chiude del tutto, si chiude del tutto ultimo, ultimo, due contro uno cede butta giù tutto, butta giù tutto no, 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 hai il falò? siiii siiii bravissimo grandi ragazzi, grandi ragazzi andiamo un altro andiamo 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 usciamo Sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto